Hi guys and welcome back to my channel, I am aggressive ASMR and today I'm gonna make another intro with my twin Here it is, today perché sempre e probabilmente non mi pirete comunque volevo solo dirlo Iniziamo subito il video e faccio, then subscribe per me Come on, come on, come on, come on! Come on, come on, come on, come on Come on, come on Slip, 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 Sì! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì.